Il magistrato, radiato dall'ordinamento giudiziario per il processo sul cosiddetto sistema saguto, secondo l'accusa dei PM di Caltanissetta, nel 2012, quando era presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, aveva imposto all'amministratore giudiziario dell'hotel Torre Artale di Trabbia un coadiutore, Mario Caniglia, senza alcuna esperienza in materia economico-aziendale. La nomina di Caniglia veniva ritenuta illegittima perché era compito dell'amministratore giudiziario chiedere al giudice la nomina di un collaboratore, così arrivò il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio. L'avvocato dell'ex giudice ha contestato la tesi dell'accusa saguto, non decise da sola la nomina del coadiutore, ma si trattò di una decisione del Collegio delle misure di prevenzione che aveva convocato i dipendenti e le rappresentanze sindacali, secondo i quali esistevano tutti i presupposti per proseguire l'attività, salvando i posti di lavoro. Si decise così di affidare la valutazione sulla possibile continuità aziendale a Caniglia che, secondo la difesa, in ragione di un'esperienza trentennale quale direttore di un'altra struttura alberghiera, era tutt'altro che inesperto. Così la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste. E' attesa invece per settembre la sentenza del troncone principale del processo per corruzione a carico di Silvana Saguto e altri 14 imputati, tra cui il marito e la figlia dell'ex magistrato, prefetti, ufficiali e avvocati. Grazie. Grazie.